Buonasera, stasera in parte coro una stampa, in parte retroscena sanitari. Allora, cominciamo dal resto del Carlino che racconta del processo di ieri ai medici dell'Ordine dei Medici di Bologna e titola Radiazione di Venturi al via il processo per i nove medici che votarono sì. Quindi si sta parlando dell'udienza del processo penale la cui udienza c'è stata ieri a carico dei nove medici dell'Ordine dei Medici di Bologna a cui va il mio saluto e il mio apprezzamento come loro già sanno e che riguarda la radiazione dell'allora assessore regionale alla sanità Sergio Venturi che venne radiato e poi venne salvato lo scorso autunno dalla Corte Costituzionale che disse che in qualità di assessore e quindi per una scelta politica che adesso vedremo non poteva essere sanzionato a livello disciplinare. Quindi dice la Corte Costituzionale l'Ordine dei Medici ha provveduto a radiare Venturi senza in realtà poter entrare nel merito di una scelta politica che è una cosa un po' particolare perché allora se io domani divento assessore della Regione Veneto e prendessi delle decisioni che sono contrarie al codice deontologico medico nel momento in cui da assessore creo la norma sono inattaccabile dall'Ordine dei Medici ma nel momento in cui torno medico e ne do attuazione divento poi perseguibile disciplinarmente anche perché ricordo che i medici che vennero sospesi insieme a Venturi appoggiando e attuando la delibera di Venturi la questione non è ancora definitiva perché c'è ancora la Cassazione ma vennero sospesi e proprio perché attuarono come medici poi loro fecero ricorso, poi ci fu la prescrizione però insomma non è tutto lineare o semplice come certa stampa infermieristica vorrebbe far credere. Allora il Carlino ci dice ha cominciato il processo di 9 medici accusati di abuso d'ufficio perché questo è il reato contestato in concorso, quindi i 9 perché nella commissione disciplinare del 30 novembre del 2018 votarono a favore della radiazione dell'albo dell'ex assessore regionale Venturi che all'epoca lo era ancora dopo la lunga vicenda seguita alla delibera in cui concedeva agli infermieri specializzati di stare soli in ambulanza senza medici. Ora, primo, non esistono infermieri specializzati in Italia non esiste la specializzazione infermieristica quindi questi sono infermieri che possono aver fatto dei corsi di qualche ora ma che sono tutto tranne che specializzati perché non esiste la figura dell'infermiere specialista stanno cercando di crearla in tutti i modi e pensate un po' proprio il mio presidente di ordine di Venezia nella sua qualità di presidente della Cimo sindacato dei medici ospedalieri ha fatto ricorso al TAR per questo motivo pensate un po' chi è stato il mio presidente di ordine di Venezia e lo stesso tentativo di Zaia di creare queste figure peraltro con dei corsi che non si è capito neanche esattamente cosa siano mentre il mio presidente di ordine ha fatto ricorso al TAR in qualità di rappresentante Cimo io ho fatto un esposto alla magistratura il punto è che i cittadini emiliani non lo so se sanno che Venturi ha deciso che gli infermieri specializzati lo dice il Carlino che in realtà non esistono potessero stare soli sulle ambulanze non c'erano i medici non lo so se la comunità degli emiliani i romagnoli sia d'accordo su questa cosa ma il problema non è neanche tanto questo perché il problema non è tanto lo stare soli il problema è quello che fanno perché sono stati creati degli algoritmi per cui sulla base di sintomi più o meno specifici si fanno delle valangate di farmaci che non hanno né capo né coda e quindi noi avremmo questa mostruosità che è stata creata cioè la mostruosità di ambulanze senza medici che però prevede la presenza di personale non medico che senza aver fatto diagnosi si sogna di fare farmaci anche farmaci molto molto pericolosi lo dico ai cittadini emiliani e romagnoli perché così sanno chi li ha governati Venturi e Bonaccini in questi anni in aula ieri si sono costituiti parte civile peraltro con gli algoritmi assurdi anche questi io li ho denunciati ho fatto un esposto alla magistratura perché vorrei sapere dai magistrati dai giudici penali dalle procure prime dai giudici penali poi se è pensabile che chi non è medico e chi non ha mai studiato medicina possa somministrare farmaci ma soprattutto l'altro quesito che io avevo chiesto era i cittadini quando mai danno il consenso a questa cosa cioè il cittadino lo sa che è solo un infermiere che gli sta somministrando dei farmaci senza aver fatto diagnosi diagnosi che peraltro per legge non può fare perché c'è uno sbarramento legale per cui chi non è medico non può fare diagnosi e se tu non fai diagnosi come cacchio fai a fare una terapia? sono tutti quesiti a cui la magistratura penale dovrà rispondere quindi ieri in aula si sono costituiti parte civile Venturi stesso e la regione posizioni entrambe rappresentate dallo stesso avvocato ha messa poi la lista dei testi tra loro il presidente dell'ordine dei medici Giancarlo Pizza che saluto e anche Venturi con cui ci sarà poi un faccia a faccia perché il procedimento disciplinare avviato da Pizza dal presidente di Bologna portò alla radiazione dello stesso Venturi Pizza però non era presente alla votazione quindi Pizza non è tra i nove rinviati a giudizio vabbè poi altre questioni tecniche dell'udienza che non interessano quindi la questione è questa se uno in questo momento fa un incidente dove metà della strada sei in Emilia-Romagna e nell'altra metà sei nelle Marche rischi che se fai un incidente nelle Marche adesso non conosco la registrazione delle Marche ma ancora voglio sapere però per dire fare un esempio lì ti arriva un'ambulanza magari medicalizzata se l'incidente capita dal versante romagnolo invece lì ti arrivano solo gli infermieri a me sinceramente questa cosa spaventa molto perché sono di origine emiliana e vorrei dire solo di origine perché ho abbandonato l'Emilia nel 99 perché non ne potevo più quindi io sono residente in Veneto da 20 anni e soprattutto i miei familiari stanno in Emilia per cui è una cosa che mi tocca molto da vicino detto questo invece per quanto riguarda la corona stampa e ripesco dal mio profilo perché l'ho già pubblicata abbiamo due notizie una riguarda una notizia che ci dà l'ottimo Remo Croci il giornalista Mediaset che ci dice dunque Arcuri il commissario straordinario nominato dal governo dopo avere palesemente mostrato la sua incapacità nel gestire il compito che gli era stato affidato acquistare le mascherine di protezione è stato di nuovo nominato commissario straordinario stavolta per gestire gli acquisti di mascherine per il settore scolastico che notoriamente è un settore semplice da gestire vi garantisco che non si tratta di una fake è tutto vero e quindi Remo Croci ci dice che Arcuri Arcuri è di nuovo nominato commissario straordinario l'altra notizia sempre di corona stampa è invece che il premio Nobel Maurizio Landini dice sì al vaccino obbligatorio perché Landini giustamente conosce la virologia la medicina l'anestesia e reanimazione e l'immunologia grazie Landini per il tuo supporto il tuo apporto scientifico ma poi abbiamo soprattutto sempre nell'ambito del pianeta scuola altra mostruosità italiana abbiamo l'ordine delle professioni infermieristiche di Roma tra l'altro questa storia dell'ordine infermieristico lo ribadisco ancora una volta l'antitrust aveva dato parere negativo all'istituzione di questi ordini perché aveva detto che non servivano assolutamente nulla però la Lorenzin ha voluto fare sto regalino e quindi ha inventato questa storia per cui adesso esistono pure l'ordine degli infermieri ditemi voi se è normale allora che insiste nell'invenzione dell'infermiere scolastico perché dobbiamo ospedalizzare le scuole e qui ospedalizzare nel senso che vogliamo far passare il messaggio che ci sia bisogno di infermieri a scuola non so se è chiaro l'assistenza nelle scuole a bambini con problemi di cronicità fa parte delle caratteristiche proprie della professione infermieristica ma fatene in ospedale la professione infermieristica che sarebbe già una gran cosa due punti professionisti laureati formati ad hoc a cosa non si sa esperti di comunicazione a meno risulta ed educazione sanitaria quindi scopriamo che adesso c'è anche all'interno del piano di studi l'esame di comunicazione a quanto pare ed educazione sanitaria che è un'altra cosa che compete ai medici ma qui i doppioni oramai c'è i pseudo doppioni perché c'è un certo abisso quindi laureati formati ad hoc esperti di comunicazione ed educazione sanitaria nient'altro anche in caso di eventi come epidemie e pandemie pensa un po' l'epidemia e la pandemia che toh proprio ci aiutano a capire la necessità di questa figura per spiegare norme igieniche e di prevenzione e già dipendenti delle strutture sanitarie cosa abbiano scritto non lo so perché normalmente quello che scrivono è sempre scritto in un modo un po' così però insomma si vuole creare adesso l'infermiere scolastico se qualcuno mi può dire a cosa serve l'infermiere scolastico a parte fare propaganda perché così anch'io oggi scopro qualcosa di nuovo prima c'era sotto qui in hotel la canzone Bella Atmosfera che poi è Good Time il titolo originale ma mi pare che siamo circondati da una bruttissima atmosfera e quante ancora ne dobbiamo vedere arrivederci